Nulla, come liberi cittadini si difenderanno Beppe Grillo e Alberto Perino davanti alla legge, ci preoccupa appunto la manifestazione libera del proprio dissenso, quella che la legge sta mettendo in discussione. Secondo voi quindi non c'era stata un'istigazione? Eravamo in tantissimi, ma si è voluto colpire Beppe Grillo e Alberto Perino. Ero anch'io presente quel giorno, ma hanno deciso di colpire due figure di rappresentanza. Forse perché lui viene considerato il vostro leader, no? Era il 2010, eravamo in tanti ribadisco, non so perché, ma non hanno colpito tutti, ma solo due.